I cittadini sancataldesi potranno conferire tutti i giorni carta, cartone, plastica, lattine, vetro, legno, manche, sfalci e potature, abbigliamento, organico, ingombranti, elettrodomestici grandi e piccoli, sorgenti luminose, pile, batterie, farmaci, oli e grassi commestibili nel nuovo centro comunale di raccolta. L'ex mattatoio comunale infatti, dopo i lavori di ristrutturazione ed eguamento, è stato riconsegnato alla città e presentato nel corso dell'inaugurazione in presenza delle autorità. Dopo anni di lavoro finalmente riusciamo a consegnare alla città un centro comunale di raccolta. È un momento particolare perché da oggi qui avremo un presidio, avremo un centro dove i cittadini potranno rivolgersi anche per i loro reclami, dove potranno venire a conferire i rifiuti. Mancava alla città di San Cataldo e questo in un'ottica di un lavoro che va sempre una maggiore efficienza del servizio fornito ai nostri concittadini. Il centro sarà aperto tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 8 alle 12 e il sabato, anche il pomeriggio, dalle 15 alle 19. La raccolta differenziata in questo momento è attestata circa il 69% in percentuale nei mesi che vanno da gennaio a giugno. È stato tutto un crescendo questa percentuale perché abbiamo voluto fortemente, anche con la ditta e con tutta l'amministrazione, che la raccolta differenziata fosse incrementata il più possibile. Non a caso questo centro comunale raccolta lo abbiamo voluto e credo che funzionerà e farà la sua parte anche nell'incremento della percentuale di raccolta differenziata.